Bentornati su TPC Lives, io sono Paul e oggi proveremo Zombies. Vorrei ringraziare i sviluppatori che mi hanno dato l'accesso al gioco. Let's go! Farfallucciola Il Prospero Laghetto Ok ragazzi, siamo su un treno Credo, credo che siamo questo bambino qua La musichetta è un po' tetra Ci siamo Stazione di arrivo, ok siamo arrivati a destinazione Accidenti! Dove sono? Dove siamo? Sembra che sia arrivato a El Prospero Town Come sono finito qui? Devo aver usato alcune stazioni quando mi sono addormentato Lucky, ti è addormentato Ricky, il nostro personaggio si chiama Ricky, boys Amico, sto morendo di fame, andiamo in città e vediamo se riusciamo a trovare dei burritos Ops Oh, sembra carino Ah scusami, sono nuovo in città Ciao, benvenuto a El Prospero Cosa ti porta qui? Mi sono appena diplomato al liceo, sono in viaggio per vedere il mondo E' fantastico, ho sempre voluto vedere altre parti del mondo Come ti chiami? Ashley E' stato un piacere conoscerti, devo tornare a casa adesso Ciao, ciao C'è praticamente lui aveva i guaricini e lei ha la lacrimoncia lì E' un po' cringe E' stato bello parlare con lei Oh aspetta, sono un tale idiota Perché non le ho chiesto il numero? Ma che ci fai? Ehi aspetta Ok, siamo al Prospero Station Iniziamo da qua Via della stazione Dai un'occhiata a questo posto E dà, ma gliel'ha stocchiata Questo posto è fantastico Perché non hai mai sentito parlare di questa città prima d'ora? Ma con chi ce l'ha? Cioè, con chi parla? Sembra che ci sia un festival Ma dove sono tutti? Dove sono? Ci abbiamo, allora, movimento Vabbè, punta Ecco Così, così Ci abbiamo una freccia C'è scritto di qua E noi passiamo di qua Ok, sempre dritti Gira a sinistra per il Carnevale della Morte Ok, il Carnevale della Morte Se c'è un posto dove trovare Burritos Immagino che il Carnevale sia il posto giusto Ok Allora Esistono diversi tipi di missioni Missioni Storia Missioni Secondarie Missioni Karma Le Missioni Storia Sono obbligatorie E non possono essere esaltate Mentre le Missioni Secondarie E le Missioni Karma Sono opzionali Va bene Visita il Carnevale Visita il Carnevale Visita il Carnevale Lasciami stare Ehi, fermo Ha rapito Ashley L'hanno rapita Andare a salvarlo Let's go Aspetta Potrebbe esserci un sacco di cattivi lì dentro Sono pronto ad affrontarli Affrontarli? Affrontarli tutti? Perché no? Sì Non c'è tempo da perdere Devo sbrigarmi Sipola Sipola boys Vediamo vediamo Carnevale Dove sono andati? Dovrebbero essere qui da qualche parte Sembra che stia per iniziare uno spettacolo Devo trovarla in fretta Aspetta C'è qualcuno adesso sul tabellone Benvenuti signori e signore Sono il vostro presentatore per stasera Max School E' fantastico avervi tutti qui Iniziamo con il nostro evento principale Abbiamo un ospite speciale qui Che stasera farà parte Del nostro piatto principale Eccola la Aiuto Adesso si cucinano Ashley La faremo cadere in questa gigantesca pentola Di zuppa bollente E ce ne sarà abbastanza per tutti E' ora della cena? Non vogliono cucinare bene Devo fare qualcosa Ehi signore l'hai sentito? Faranno del male a quella ragazza laggiù Dobbiamo fare qualcosa per aiutarla Ah E' un mostro Guarda cosa abbiamo qui Un altro umano Non farlo scappare Olè Non c'è modo di scappare ora Allora Aggiungeremo anche questo al menu Deve essere una via d'uscita Allora vediamo un attimo Tutorial Vabbè Movimento Per muovere il tuo personaggio Usa movimento Per muovere il tuo personaggio Fino qui Penso che ce l'avamo arrivati tutti No? Ok Ok Usa mira per ruotare il personaggio Premi mischia per saltarne un attacco normale Per scatenare un attacco normale Tieni premuto mischia Per caricare Quindi rilascia mischia Per scatenare un attacco caricato E completamente carico Ma consumerà resistenza Ok Vai Subito Ah subito così A pugni Lo prendiamo Boom Uccidili Ok Interagisci npc oggetto Premi interagisci Per interagire con oggetti npc Ok Oh la pistola Aspetta Come hai avuto quella pistola? Un regalo dai tuoi amici Chi ha portato qui una pistola? Nessuno Avete letto il cartello all'ingresso Non sono ammesse armi Oh non importa Fuori dai piedi Lascia fare a me Adesso combattiamo Prendilo Prendilo Premi schiva Per rotola Consumerà resistenza Ma usato in tempo Può schivare attacchi in arrivo Ok Si spara Guarda Ma che dobbiamo fare? Tipo Ah così schivare schivare Eh? Oh fantastico Sono senza corrente Copritemi ragazzi I miei poteri sono in ricarica Ok Usa mira Spara e ricarica Avanti Si ricarica Capriola Spara Ricarica Capriola Ok Ok Prendi E' una granata Ho detto che non sono ammesse armi Ora è la mia occasione Ok Premi granata Per lanciare una granata Noi ragazzi lo facciamo con la Q Eccola la Eh no Più avanti Ecco così Cioè Mi hai shuttato Guarda cosa hai fatto al mio corpo Non fai più il duro Ora senza i tuoi poteri eh Tu ora vieni con me E mi spieghi cosa sta succedendo qui intorno Ma ce lo prendiamo? Oh certo Certo che no Te ne vendirai Aspetta solo che Riavrò il mio corpo Tazzo Aspetta Ora ti vengo a prendere Gli abbiamo preso Il teschio La testa Ehi Allontaniti da lei Attenzione Prendilo Il colpo deve Deve fare male Intendo Intendo per il mio amico Che hai appena preso Appunto Non c'è tempo per preoccuparsi Per me Usciamo da qui Prima che arrivino altri Andiamo Let's go Ah bellini loro Via della stazione Ci è mancato poco Come usciamo da qui? Ci sono dei camion Che bloccano la via del ritorno in città Ah Ci devono essere altri modi per uscire Continuiamo a cercare Va bene Ah Eeeh Che sta a fare? Accidenti Arrivano Presto Da questa parte Aspettami Andiamo Andiamo di qua C'è clamoroso Di qua E viene di qua Poi Andiamo di qua Viale dei bar C'è un bar C'è un bar poco più avanti Nascondiamoci lì dentro E' sicuro? Sono preoccupato Non c'è tempo per pensare Dobbiamo toglierci dalla strada Al più presto Va bene Aspetta È un frigorifero quello all'angolo? Ah non importa Sto morendo di fame Resta lì Ashley Vado A dare un'occhiata Ok siamo arrivati al frigorifero Tutorial Il frigorifero viene utilizzato Per modificare Equipaggiamento Riposa E salva partita Usando riposo Recupererai Tutti Gli HP E Energia Ehi Non c'è proprio niente Qui dentro Ah Non avrei dovuto Operare in uno strano frigorifero In un posto a casa Sarà meglio che torni da Ashley Ed entriamo nel bar subito Ma sta qui Sta qui Ashley Ah Vabbè Entriamo nel bar Sposta la cassa Prima le signore Grazie Ci hanno trovato Possiamo sparare? No Perché non ho più la pistola? Non ho la pistola Mettiti in salvo Ah Entriamo subito qua dentro Siamo messi in salvo Ok Ok Aspetta Aspetta Eccola lì la pistola Che cercavamo prima Guarda cosa ho trovato Guardatela Guardatela Vieni con me se vuoi vivere Mi sta cercando di impressionare Sto andando sui nervi il teschietto Ai 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 Ecco i cattivoni Sono entrati Mettiti dietro di me Dirigiti verso le scale Oh Sorry Basta Scendi Abbiamo fatto fuori quei bardassi Andiamo avanti sulle scale Mettiti in salvo Piano 1 Bardi Henry È mancato poco Sì Speriamo che non siano abbastanza intelligenti da seguirci qui Dai Dobbiamo continuare a muoverci Forse dovemmo prima cercare un posto sicuro per riposarci un po' Hai ragione Dobbiamo stare all'allerta Potrebbero esserci degli zombie in agguato Lascia fare a me Stammi vicino Dio stai cercando di fare l'eroe eh I miei ragazzi possono facilmente farti a pezzo In effetti Chi bussa? Ciao C'è qualcuno là fuori Per favore rispondete Se riuscite a sentire Probabilmente una trappola I banditi sono più pericolosi degli zombie sai Signora È chiusa lì dentro? Buon dio Non posso credere che ce ne siano altri ancora vivi Tutti in città hanno improvvisamente iniziato a trasformarsi in queste creature Stiamo anche cercando di trovare un posto sicuro Può farci entrare? Intento Altri zombie No nooo Oh no Dovrai prima sbarazzarti Non ti preoccupi signora Gombero e il corridoio Farò entrare quando la via è libera Attenta Ashley Non avvicinarti troppo Fai attenzione Dove sono? Ah eccoli Ricarica Ok Uccide troppo easy Adesso puoi aprire la porta signora È tutto libero Venite dentro Go Grazie per averci fatto entrare Sono Ricky E questa è Ashley Come ti chiami? Sono Lisa Sono la cameriera di questo bar e lounge Sei sola? No, ero con Henry Finchè non mi ha detto di nascondermi mentre cercava delle armi al piano di sopra Henry Henry è il proprietario e il barista È via da più di un'ora Se è scomparso da così tanto tempo potremmo presumere che sia già stato mangiato vivo dai miei amici Cavolo Devi aiutare Henry Non preoccuparti Vado a cercarlo Ashley Voglio che tu rimanga in questa stanza con Lisa Lasciami venire con te No È più sicuro qui dentro Non voglio che tu venga ferita Da quelle creature mangia cervello là fuori Bene allora Chiudi le porte dietro di me quando esco Aspetta Ho sentito da Henry che c'è una specie di zombie speciale che ha preso qualcosa di suo Forse puoi cercare quello se vuoi trovare lui Sai dov'è questo zombie speciale? Non ne sono sicura Ma credo sia al secondo piano Henry ha detto che questo zombie è diverso degli altri Dovrai stare attento quando lo ha fatto Che ha fatto? Non ha fatto niente Ha fatto Prova Henry Cioè praticamente sono scomparsi Dove sono andato? Apri chiù Apri chiù Ah si spaccano le cose Ok Spacchiamo tutto Allora da qui siamo venuti Andiamo di qua Stanzine Spacchiamo tutto anche qua Non c'è niente loot Troppo Oh ecco ne uno Fuori uno Fuori due Carica Andiamo a cercare questo zombie speciale Monete Non c'abbiamo le monete Qui Raccogli Polaroid 600 oggetto da collezioni trovato La Polaroid Andiamo avanti Andiamo avanti Si sale Primo piano O Il secondo Questo Il secondo Già stiamo al secondo piano Ok Sì Abbiamo fatti easy Apri Aspetta Orario preciso Premi V V Vabbè entriamo Vabbè entriamo Ok Ok Fatti tutti Qua c'è un burrito Ah vedi c'era un burrito Lì Qui sopra Si può entrare Trova Uccidi Schiaffeggiatore Pazzo Junior Ok Qui abbiamo Abbiamo preso tutto Vai si va avanti Che cosa è? Ah granate Non abbiamo usato granate Andiamo avanti Ho un frigo salviamo ok spacchiamo tutto qua qua dentro non c'è niente la vita è massima andiamo avanti ehi posso vedere qualcosa attraverso il barco della porta è quello lo zombie speciale di cui parlava Lisa dovrei combattere ora sono pronto per affrontarlo a stanza del boss preparati a mangiare proiettili mostro eccolo qua trova Henry uccidi schiaffeggiatore pazzo junior eccolo qua granatons oh merda che tira un po' di granate 60 di critico oh 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 super massa è buono che c'è tipo il salvataggio prima del boss così se muori aia che sta a fare black blade via che è successo orario preciso premio gru per visualizzare i contenuti si si mi sta a ammazzare noi contenuti e il contenuto lo stiamo facendo noi e il contenuto è digitale qua ops madonna mi sta a fare un male comunque non muore non muore abbiamo finito i grani certo se te becca con quella drottola all'angolino sei fritto ecco le granate una due tre ok orario preciso 1.950 come diavolo fa a rialzarsi sono già esausticando di battere questo qui ok è venuto Henry eccolo qua Henry è lui chiedo di conoscerti sono Henry sono ricchi devi essere proprietario come fai a saperlo Lisa mi ha parlato di te è al sicuro? si è al sicuro con la mia amica ero impegnato a cercare la chiave del mio arsenale poi alcuni zombie sono arrivati dal nulla e le ho detto di correre in sala è difficile trovare persone affidabili qui intorno sono solo felice che tu non sia un altro zombie che cerca di mangiarmi il cervello ti mangerei volentieri il cervello se avessi ancora il mio corpo chio mio è un teschio parlante perché lo porti con te è una specie di stregone che può controllare i zombie l'ho preso in ostaggio ma non riesco proprio a convincerlo a smettere di parlare cosa ti aspettavi? ero un presentatore professionista quando ero una polpetta di carne come te è meglio che tieni la bocca chiusa o te la incolli solo avessi le labbra potrebbe funzionare lisa era preoccupata per te povera lesa devo farmi perdonare nel frattempo giusto perché tu lo sappia siamo ancora qui in un bar sembri minorenne quindi non cercare di sgattaiolare in giro bevendo alcolici dannazio ho nascosto alcuni oggetti in uno scomparto segreto nascosto in questi frigoriferi di emergenza sei libero di farne muso quando ne incontri uno ho anche sbloccato le scale per i piani superiori potrebbero esserci più persone che hanno bisogno di un aiuto perché non vieni con me? devo occuparmi del bar qua giù e devo tornare velocemente da lisa posso avere una birra quando torno? aspetta di avere l'età per la patente ragazzi che ha vabbè cioè che c'è c'è associato la birra con la patente so che per autodifesa ma è già abbastanza brutto che tu abbia un'arma alla tua età e vuoi aggiungere pure dell'alcol immagino che tu abbia ragione che cos'è? fila 2 fila extra sbloccata allora le ricompense possono essere ottenute dopo aver sconfitto ogni boss controlla il frigorifero per vedere come vuoi potenziare il tuo personaggio ah ok il frigorifero dove è? la fuo c'è la stanza del boss il frigo sta qua fuori caricamento naviga qui intorno per sbloccare la classe che preferisci classe un bizzo ma questo è bloccato primaria la pistola secondaria ah eccola qua vediamo danno primario danno speciale per armi danno da granata danno da mischia io direi questa qui il costo ragazzi è di 300 noi abbiamo 500 il primo perk ragazzi statistica per principianti danno speciale armi 30% danno da granata 20% e con questo io concluderei qui ebbene se volete vedere come continua questo gioco lasciate un like condividete e commentate let's go ciao